Benvenuti in un'altra grande puntata del Talk Scienze Motore. Oggi in compagnia di un grandissimo ospite Andrea Zalina. Ciao Andrea, benvenuto. Ciao, ciao, grazie mille. Andrea è un grande preparatore fisico e un docente con una strepitosa esperienza internazionale con la squadra dell'Eister, da quale avremo modo di parlare. In questo spazio Andrea dialoghiamo per capire quali sono state le strategie che ti hanno portato a questo grande successo. Lo facciamo condividendo un'ottima tazza di te e iniziando dalla prima domanda. Come è iniziato il tuo percorso? Il mio percorso è iniziato come il percorso di tutti gli studenti di Scienze Motore, in buona sostanza. Ho una laurea triennale che ho conseguito a Varese, un laurea specialistica in Scienze dello Sport a Milano, dopodiché ho un dottorato di ricerca suddiviso tra University of Kent e Università di Verona. Nel mentre di tutto questo percorso, diciamo che il mio grande obiettivo è sempre stato quello di poter fare preparatore fisico, anche se in realtà nel momento in cui ho scelto di fare il dottorato di ricerca, come tutti noi chiaramente, tutti quelli che si affacciano al mondo sportivo, non abbiamo la certezza che il nostro desiderio possa diventare la realtà, quindi quello di poter fare preparatore fisico in Serie A o in nazionale o quant'altro. L'altra mia grande passione è sempre stata la ricerca, che in realtà è un processo, diciamo così, on-going, ovvero in divenire ogni volta, bisogna sempre studiare, bisogna sempre inseguire, perché in ogni caso è un processo che non si ferma oggi. Certo. Quindi ecco, questo è un po' il mio percorso in generale, poi è chiaro che una volta fatto il dottorato, o meglio, a metà del mio percorso di dottorato ho avuto la chiamata da parte di Claudio Ranieri e di conseguenza ho avuto questa possibilità che è stato un po' un compromesso, perché chiaramente all'inizio non avevo la certezza che mi venisse data la chance di poter fare entrambe le cose, poi è stato così, insomma. Sono quei treni che passano una volta, sia da un punto di vista accademico con Samuel Marcora e Federico Schena, che erano i miei due supervisors, che dall'altra parte, ma dall'altra parte in realtà non è che ci fosse da scegliere, la proposta era lì, andava solo presa, quindi sono stati loro che hanno detto… Come è arrivata? Quali sono stati… È arrivata una mattina, una mattina tranquillissima, ero in moto, mi suona il telefono e una persona che è Roberto Sassi mi dice Andrea, mi ha chiamato Claudio Ranieri perché Roberto ha lavorato per, credo, buoni 12 anni con lui, ha bisogno di un preparatore fisico e gli ho fatto il tuo nome, questo anche tramite Ermano Rampinini, Ermano Rampinini che ora è responsabile del laboratorio di fisiologia al centro MAPEI, dove Franco Impellizzeri, che è un'altra delle persone che mi hanno formato… Che saluto perché è stato qua, persona straordinaria… E di fatto è andata così e quindi la mia reazione all'inizio è stata, vabbè dai non mi prendere in giro Roberto, mi ha detto no no, sono serio e quindi è andata così insomma. Claudio, abbiamo avuto un colloquio in Skype, questo per dirti la persona, quindi si è affidato dall'inizio di un ragazzo perché alla fine io sono andato a Monaco, che è vero che era in serie B, ma è comunque Monaco, è Monaco che quello era l'anno 2000… direi 2012… Sì, giugno 2012, nel 2007 faceva la finale di Champions League, se non ricordo male, o semifinale o finale di Champions League, quindi una grande società ecco. E lui, Claudio, ebbe diciamo così la pazienza e non saprei definirlo in un altro modo, ma comunque mi diede subito fiducia ecco. E da lì il percorso è iniziato. Sono quelle telefonate che fa piacere ricevere. Assolutamente. La mattinata in moto. Assolutamente. Sicuramente avevi già comunque sia la stima di Sassi che ti ha indirizzato, ti ha indicato… Sì, sì, sì. Credo che per certi aspetti ci sia stato come piccolo aneddoto anche una chiamata sicuramente a Enrico Orcelli, che è stata un'altra persona con la quale ho lavorato, sia da studente… Poi io abito a Varese, lui chiaramente si era trasferito a Varese, viveva a Varese, è stato a Varese per moltissimi anni, ora purtroppo non c'è più. Quindi credo che anche Enrico abbia dato il suo, tra virgolette, benestare. Perché Roberto lo conoscevo, ma non lo conoscevo così bene ecco. Questo in breve, diciamo. Certo. Allora, diciamo che è interessante appunto che se avevi già la stima di tutte queste persone, vuol dire che stavi facendo particolarmente bene prima. Sì, mi piace che lo dicano gli altri. Io dico che credo di essermi guadagnato tutto quello che mi sono preso fino ad ora, fino ad ora, fino ad oggi. Sicuramente non è stato un percorso facile, ma non lo è tuttora per tanti studenti, tante persone. Probabilmente, e questo sono certo, ho sempre vissuto ogni giorno, dal primo giorno di università, anche per vicissitudini personali che sicuramente ti formano e modificano il tuo carattere, con lo spirito di dire oggi devo andare a casa con qualcosa di nuovo. Da poter applicare a me stesso in primis e un domani a chiunque, insomma. Sia dallo sportivo di basso livello fino allo sportivo d'elite, al campione del mondo, non lo so. Questo. Questo è molto interessante. Perché sono quei retroscena che non si vedono. Tutti, ovviamente, sono concentrati a vedere i grandi successi. Certo. Però quello che c'è dietro... Non lo vede nessuno. Non lo vede nessuno. Quindi io sono interessato molto a sapere questo. Ovvero tu, durante il percorso universitario, qual era la tua spinta? Qual era la tua attrazione che ogni giorno ti portava a fare meglio? Quali erano le tue ambizioni? Sì. Allora, guarda, ripeto, la spinta è stata quella dall'inizio. Perché in realtà, anche lì, diciamo che se ritorniamo ancora un po' più indietro, già alle superiori avrei voluto fare scienze motorie. Perché ho sempre avuto passione per il movimento. E quindi ero convinto che quella fosse la mia strada. Addirittura la mia tesina, diciamo così, io sono perito informatico, la mia tesina era stata quella di creare un plastico di uno stadio con un display, con un database. Quindi, insomma, c'era già nella testa l'analisi dei dati di match analisi, chiaramente rudimentali, però l'idea di base c'era. E quello mi ha sempre spinto. Quindi una grande passione. Poi, se ci mettiamo... Il fatto che fino a quel momento, ma anche adesso, la vita non mi ha mai regalato niente. Quindi, chiaro, sono cambiate alcune condizioni. Ma all'inizio del mio percorso accademico non avevo assolutamente niente. Anzi, per poter pagarmi l'università ho dovuto fare 3-4 lavori. Ho dovuto vincere le borse di studio di merito, che per me sono un vanto, non sono un aspetto negativo. Perché mi hanno insegnato a vivere, prima di tutto. E poi, probabilmente, un po' di qualità ce l'ho messa in quello che ho fatto. E questo, al momento, è il risultato di questi primi... Nei professionisti, credo, sei anni. E poi, vabbè, ho fatto l'altra fila, come tutte le persone, nei dilettanti, nel settore giovanile professionistico a Varese. Fino ad arrivare alla primavera, col Varese, dove l'anno precedente fu la prima apparizione del Varese, dopo tanti anni, in un campionato professionistico, in un campionato di primavera. dove arrivarono a vincere la medaglia d'argento contro la Roma. e l'anno successivo noi andammo ugualmente nella Final Eight e perdemmo 4-0 contro la Roma. Quindi, chiaramente, meno importante come cassa di risonanza, ma, in ogni caso, per una società come Varese, per andare per due anni consecutivi alle Final Eight è stato comunque un risultato ottimo. E da lì, poi, sono passato a Monaco. Monaco, poi la Nazionale Under 21, e poi altre. Immagino che questa scalata richieda doti di grande versatilità, ovvero devi sapere molto velocemente adeguare alle situazioni e appunto ai cambi di ritmo, ai atteggiamenti che ci sono, immagino, tra le diverse categorie. Qual è stata la tua esperienza di merito? Cioè, alla fine è abbastanza stata rapida, no? Anche se sono tanti anni, però, alla fine hai scalato in maniera molto rapida. Qual è la tua esperienza di merito? Cioè, quando sei trovato di fronte a questi grandi cambiamenti in tempi molto rapidi? Ma allora, ecco, ora che mi parli di questo, per me in realtà il cambiamento è stato minimo, perché con MAPEI ho sempre avuto la possibilità di fare test di valutazione sul campo con atleti di Serie A. Partendo, all'inizio c'erano i test di valutazione con la Propatria, quindi in Serie C, il Sassuolo non era ancora in Serie A, poi c'era la Sampdoria, Livorno. Quindi ho sempre avuto questo approccio con un atleta professionista di diversi livelli, ma per me è un atleta, quando l'atleta lo fa seriamente, la categoria non conta. Cioè, tu puoi trovare atleti serissimi in Serie C, in Serie B, in Serie A, ma anche nelle categorie dilettantistiche. Di conseguenza, il mio approccio è sempre stato di essere professionale al massimo con chiunque e quando ho avuto la possibilità di esprimermi in categorie più elevate, più alte, non ho avuto grossi problemi, insomma. Perché credo che di base chiunque faccia questo lavoro debba essere professionale con chiunque e avere rispetto di chiunque. E quindi, nel mio caso, non ho percepito questo salto, ecco. Ok. Hai detto una cosa interessante prima sul fatto che tu già quando eri superiori volevi fare professionista di scienze motorie. Sì. Questa è una discriminante che trovo nei grandi professionisti in chi ottiene successo, cioè raggiunge i propri obiettivi, fa quello che ama fare. Perché nelle scienze motorie non è che tutti hanno le idee chiare quando inizio questo percorso. Chi ce l'ha? E questo tu da docente ne sei finalmente consapevole. Chi invece va con le idee chiare sul punto che vuole raggiungere e ottiene grandi risultati? Sì. Di base potrebbe anche non essere così, perché poi ci sono tante variabili. Però se scavi in fondo, in fondo, se tu vuoi, il vecchio detto volere potere, per me è stato vero. Perché magari sarebbe potuto essere un altro allenatore o altre società, però prima o poi sarei arrivato. E questo per me deve essere un messaggio chiaro per chiunque, insomma. Ci devi credere, ci devi credere. Anche quando ci sono veramente delle avversità importanti, ma lo devi fare. In primis per te stesso e poi anche per chi ti sta intorno. Perché comunque chi ti sta intorno fa sacrifici per te. Quindi lo devi fare, ecco. Poi è normale che il livello di determinazione, motivazione, attitudine, competenza determinerà il livello al quale andrai a lavorare. Questo per me è ovvio. Quindi la vedrei così, insomma. Non so se ti ho dato la risposta. Sì, sì, sì. Per quanto riguarda la tua esperienza come docente e la tua esperienza internazionale, qual è il tuo punto di vista in merito alle possibilità che ci sono in Italia più che all'estero? Sei sicuro che vuoi che ti risponda? Assolutamente. Allora, secondo me, senza voler creare delle polemiche inutili, ma credo che ultimamente la laurea in scienze motori abbia perso la sua natura. perché stiamo creando dei professionisti che di sport, vero, quello dove si suda, ci si sporca, si rotola, si salta, si corre, si spinge, si calcia o si schiaccia, quello che volete, se ne fa sempre meno. Se l'obiettivo principale delle laureate in scienze motori è quello di uscire da una laurea triennale, perché non è detto che poi tutti facciano una laurea magistrale o un dottorato di ricerca o qualsiasi altra cosa, e di essere in grado di gestire un gruppo che sia di bambini, di anziani, di persone adulte o un singolo con differenti caratteristiche, secondo me non lo stiamo facendo. O non lo stiamo facendo come lo si dovrebbe fare. Quindi con il giusto, mi viene da dire amount, perché ormai con l'italiano ho qualche problema, ma la giusta quantità di ore, di esperienze pratiche, di professori che abbiano contatto col mondo reale. Perché poi questo fa la differenza. Io quando vado a parlare in università o a congressi dico sempre se sono venuto qua oggi è per potervi lasciare almeno una cosa per la quale voi andrete a casa e direte ne valsa la pena di andare a sentire questo pazzo, capito? Perché altrimenti si rientra nella retorica dell'Italia, dove si perde tempo, dove la formazione è inutile. E quindi secondo me bisognerebbe trovare una soluzione per fornire agli studenti, che sicuramente hanno delle colpe, ma non è solo colpa loro, per poter essere inseriti, non di qua ad hoc, però un po' meglio di come sono inseriti ora nel mondo del lavoro, che è una giungla, perché le scienze motorie sono poco regolamentate dal mio punto di vista. Il rapporto dell'Italia rispetto al mondo internazionale, o rispetto diciamo così all'Europa per stringere un po' il cerchio, lo vedo sicuramente, sono più pragmatici, hanno un approccio scientifico migliore rispetto al nostro, che non è sempre così, però di base, mediamente è così. Ci sono sicuramente delle facoltà di scienze motorie in Italia che si stanno adeguando, stanno cercando di adeguarsi, per esempio al mondo anglosassone, da un punto di vista economico è impossibile, perché se non sbaglio il contesto, per esempio anglosassone, sicuramente è per la quasi totalità privatizzato, in Italia invece se dobbiamo comprare un modulo per misurare il consumo d'ossigeno non è possibile. E quindi io sforno un laureato che magari non utilizzerà mai un modulo per un consumo d'ossigeno, ma non è ammissibile che lui non sappia che cos'è, per cosa si utilizza e perché bisogna utilizzarlo. Spero che tu sia d'accordo con me. Quindi è difficile lottare quando hai queste differenze di base importanti, ma secondo me da un punto di vista e pratico e teorico, per alcuni aspetti siamo più avanti rispetto agli altri. E io questo l'ho potuto riscontrare per quanto riguarda la mia esperienza. Poi magari io posso essere una mosca bianca, non credo, credo che ci siano molti professionisti che girano intorno al mondo, non solamente in Inghilterra o in Francia o in Spagna, ma magari vanno in Russia, in Cina, non lo so. E noi italiani siamo riconosciuti per questo, al di là del fatto che di base delle volte dobbiamo scrollarci di dosso dei falsi miti negativi, nel momento in cui ci viene data la possibilità di lavorare, la qualità media nostra è più elevata rispetto a quella degli altri. E questo lo dico con orgoglio italiano, perché si guarda sempre al negativo, e invece non è così. Almeno per la mia esperienza non è così. È una bellissima testimonianza che può soltanto motivare chi... No, deve, deve motivare. ...nella stessa situazione magari dovevi trovare tu dieci anni fa. Certo. E quindi, ora che ci hai presentato quello dietro le quinte di quello che è il tuo percorso, per quanto riguarda la tua esperienza internazionale, diciamo, con l'Ester, qual è stato l'inizio e questa forse inaspettata strada che ti sei trovato di fronte? Beh, allora, l'inizio dell'esperienza è stato un inizio particolare, perché in tutta onestà non sapevo neanche dove fosse l'Ester. Rientriamo dal viaggio di nozze, Claudio ci sentiamo e mi dice ma probabilmente stiamo fermi quest'anno. Però io il giorno stesso guardo su internet e leggo che hanno esonerato l'allenatore dell'Ester City, che sta in Premier League. e dico ma Claudio, guarda che c'è questa società, è senza allenatore. Chiaramente lui lo sapeva e di fatti nell'arco della giornata mi richiama e mi dice guarda che, insomma, vado a parlare all'Ester, mi hanno chiamato per un colloquio e era quella, sai, quella possibilità, l'unica possibilità per risalire sul treno e venendo via un pochino con le ossa rotte dalla Grecia per ragioni X, poter rientrare in corsa in una società in Premier League, credo che molti farebbero la firma, insomma. Al di là della realtà, sei comunque nel campionato più importante al mondo, più visto al mondo e poi dopo il resto è storia, insomma. Quindi quando siamo arrivati lì sicuramente abbiamo trovato infrastrutture differenti rispetto alla media alla quale siamo abituati noi in Italia. Beh, nelle mie esperienze tralascio Monte Carlo perché allenarsi guardando il mare non capita spesso, insomma. Per chi non lo sapesse, praticamente il Monaco si allena alla Turbì, che è un piccolo villaggio sopra Monte Carlo, dove hanno scavato la montagna, costruito i campi e tu da una certa angolatura, quando ti affacci, vedi tutto il mare. Quindi diciamo che ti passano tutti i dolori che puoi avere. O le giornate storte. Però tralasciando quello, mediamente in Inghilterra trovi uno standard di strutture molto elevato, un'organizzazione molto elevata, ma anche delle pecche, alle quali ti devi adattare. Perché una delle nostre qualità da professionisti dello sport è quello di adattarsi alle avversità. Vuole difficoltà, che siano strutturali, che siano personali, che siano, non lo so, qualsiasi. E quindi gli inglesi sono un popolo tradizionalista e quindi ti ho già dato la risposta. Devi adattarti alle loro tradizioni. Cercando di modificarle, però se si pensa di modificarle un metro al giorno, probabilmente bisogna ridimensionare questo aspetto e pensare di modificarle magari anche un centimetro al giorno. Se modifichi un centimetro al giorno, secondo me, devi già essere contento. Tutte quelle esperienze che hai vissuto in precedenza in Italia sono state molto utili per adeguarti e essere versati da questo processo di cambiamento. Certamente. Quello era il valore aggiunto. Certamente. Certamente. Sì, sì, sì. Ma se non hai questo aspetto di versatilità e di adattamento, non puoi lavorare nello sport. Non puoi. Perché in ogni caso tu sei certo di una cosa sola. Io parlo del mio sport, ma vale lo stesso anche per gli altri sport. Tu sai che in un modo o nell'altro il giorno della gara devi portare a casa il risultato. E se non porti a casa il risultato, le colpe possono essere di tantissime altre persone o di tantissimi altri aspetti. Ma alla fine, se tu il risultato a casa non lo porti, la colpa è tua. Quindi il fatto di sapere aggirare i problemi e gli ostacoli è senza dubbio una qualità che devi avere. Quindi io la vedo così, ecco. Ed è una cosa che imparo tutti i giorni. Per quanto riguarda l'impatto mediatico che questa situazione ha avuto nella tua vita, perché è stata una storia che ha avuto una grandissima risonanza a livello mondiale. Certo. È una realtà apparentemente piccola che ha avuto questo enorme successo. Come ti ha cambiato? Ma onestamente non mi è cambiato molto. Nel senso che sì, sicuramente sei sulle luci della ribalta, le persone ti cercano. devi avere la capacità, come ho sempre detto in realtà, di gestire i momenti belli e i momenti bui. Lo puoi fare solo se hai equilibrio. per l'amore del cielo è stato bellissimo vincere il campionato, anche se in tutta onestà io, e lo dicevo anche prima, a luci spente, a microfoni spenti, me ne rendo conto quando parlo con delle persone che mi fanno notare determinati aspetti. Perché se no, un po' per natura e sbaglio, fatico a godermi i momenti. ma, ecco, mi sono reso conto di questo quando abbiamo fatto la parata all'Ester, quando abbiamo fatto la parata in Thailandia, all'Ester probabilmente c'erano 5-600 mila persone venute apposta per noi, ma non solamente dall'Ester o dall'Inghilterra, più o meno da tutta Europa o qualcuno da tutto il mondo. E in Thailandia invece c'era più di un milione di persone. e quindi ti rendi conto che hai fatto veramente qualcosa di importante. Ma al di là del vincere il campionato, hai unito il mondo e non lo fanno tutti. Quindi, quindi quello sicuramente è di questa esperienza quello che mi rimarrà di più. Da un punto di vista tecnico. Sì. Perché tu ti sei trovato di fronte a una squadra e che aveva bisogno del tuo contributo a livello tecnico. Sì. Hai fatto particolarmente bene evidentemente, perché hai permesso a questi giocatori di espriverti nel modo migliore. Se hai possibilità di dirmi qualcosa di un pochino più tecnico in mezzo a queste esperienze. Sì, certo. Allora, beh, da un punto di vista tecnico ti dico quello che io credo sia importante per un preparatore fisico io non credo che il preparatore fisico sia quello che sposti l'ago della bilancia sia in positivo sia in negativo se si pensa all'esclusiva all'esclusivo aspetto del numero di esercitazioni della tipologia di esercitazioni del tempo passato da parte dei giocatori con noi. Ok? Al contrario credo che noi possiamo spostare l'ago della bilancia se lavoriamo insieme allo staff se lavoriamo con l'allenatore tutto il giorno tutti i giorni nella scelta delle esercitazioni dell'allenatore che non vuol dire che le scegliamo noi però il nostro compito deve essere quello di essere un po' i commercialisti dello staff quindi sapere tutto quello che un'esercitazione che l'allenatore propone perché secondo lui in quel momento della determinata stagione della determinata settimana è importante fare quel lavoro perché da un punto di vista psicologico ci può dare quel qualcosa in più nell'approccio allora lì diventa fondamentale che noi sappiamo tirar fuori tutte le informazioni fisiche del caso sia da un punto di vista del carico interno sia dal punto di vista del carico esterno per poterle poi riutilizzare nel momento opportuno questo sicuramente è il plus che vedo in noi preparatori perché altrimenti diventa difficile ecco insomma quindi questo non so se ho reso l'idea perché la capacità di percepire in modo corretto la propria posizione è fondamentale per essere di aiuto io trovo che molti professionisti siano troppo egocentrici per poter contribuire in maniera positiva alla fine tu devi essere come detto un attento osservatore e avere la giusta prospettiva per poter aiutare una persona ma se sei tu al centro se i riflettori sono puntati su di te questo non riesce a farlo no no e vedo in molti questo problema cioè tu devi essere una figura di contorno come hai detto benissimo però è fondamentale certo rimaniamo una figura fondamentale questo poi è seconda dell'importanza che viene data ma questa è relativa per alcuni staff per esempio il preparatore fa parte dell'arredamento per altri staff senza il preparatore non si muove un passo per altri ancora avrà un altro peso questo io non lo so io so solo che la mia esperienza mi ha portato a dire che la nostra figura è sempre più importante quanto più lavoriamo insieme agli altri e quindi è normale che devi contestualizzarti solo quando ti contestualizzi hai la possibilità di esprimere al meglio le tue competenze altrimenti rimarrai sempre quello che ha questa aurea di scienziato che per la maggior parte dei casi non lo è perché ha poche basi scientifiche poche basi pratiche e si diciamo così si nasconde dietro delle apparenze se invece rubo apro una parentesi e ti rubo magari un minuto in più parliamo di quello che secondo me è l'aspetto più importante nella preparazione fisica dal mio punto di vista non puoi prescindere dall'aspetto psicologico o psicobiologico ok che non è un qualcosa che è lì ma si ha la testa ok bene si ma questo aspetto deve essere allenato quotidianamente e bisogna cercare di capire il prima possibile chi abbiamo di fronte primo instaurare un rapporto che sia efficace efficiente ma nel contempo distante c'è un piccolo muro in cui l'atleta capisca che io comunque sono l'allenatore o il preparatore o comunque un componente dello staff e tu sei il giocatore è giusto che ci sia per mille ragioni e invece purtroppo vedo sempre più spesso che per ragioni magari commerciali oppure di mancanza di competenze si cerca sempre di più di avere numeri 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 dei quali poi non sappiamo cosa farcene ma le prestazioni poi mancano e allora è meglio avere qualche numero in meno e un po' di cuore in più quindi questo è un'altra delle diciamo così delle mie linee guida sposo perfettamente questo concetto e come ti ho anticipato prima anche altri professionisti hanno parlato anche qua al tour come Armando Caligaris che oggi sta facendo ugualmente benissimo la parte psicologica la parte emotiva ha un ruolo importantissimo ed è giusto che un professionista di alto livello ne sia competente mi incuriosisce il fatto tu sei stato uno sportivo fai sport sono stato uno sportivo calcisticamente di basso livello nel senso che ho fatto settore giovanile professionistico a Varese poi ho giocato nei dilettanti e poi ho capito che dovevo lavorare per pagarmi l'università e quindi la scelta è stata molto semplice rifarei le stesse cose ma ho sempre amato lo sport a parte gli impegni quando posso comunque mi alleno se posso allenarmi sette giorni su sette mi alleno sette giorni su sette ecco insomma riflettevo su questo quando parlavi appunto del capire come porsi per contribuire al meglio con un giocatore e se lo sei stato lo sai diversamente farai sempre fatica ed è un altro dei motivi per cui se vuoi fare questo lavoro devi essere passato da un campo devi essere stato certo 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 sono dell'idea che abbiamo degli esempi di grandi allenatori che hanno avuto magari un passato sportivo non eccellente ma anche un'altra diciamo un'altra quote che utilizzo io è che di base non c'è differenza tra uno che sta in terza categoria e uno che vince la Champions League perché c'è sempre un pallone ci sono sempre 22 giocatori è chiaro che poi quello che cambia è la qualità ma i sentimenti le emozioni l'approccio non cambia tutti vogliono vincere e di conseguenza i vissuti che ognuno di noi ha dentro ti possono aiutare anche se cambi palcoscenico quindi questo è quello che io credo sono d'accordo con quello che dici tu che devi vivere certe sensazioni ma poi che tu le viva ad Arezzo che tu le viva al Bayer Monaco in un certo chiaramente con le differenze del caso cambia poco per certi aspetti quindi questo credo tu fai anche il docente abbiamo detto lo fai in ambito universitario con dei master di specializzazione quali sono questi ambienti dove possono trovarti gli studenti visto che vedo in te una grandissima risorsa non è sempre stare con un docente così preparato e con la tua esperienza chi ti cerca chi vorrebbe avvicinare e studiare con te io al momento da quest'anno ho iniziato a lavorare come professore a contratto al laurea magistrale in scienza dello sport a Bari lavoro in un master in preparazione fisica università di Pisa Verona in un modulo che si chiama allenamento d'elite chiaramente parliamo sempre di preparazione fisica negli sport di squadra in particolare nel calcio e poi dipende se qualcuno mi chiama per andare a parlare a qualche congresso serata d'aggiornamento sono stato a Roma settimana scorsa credo per un seminario credo ne avrò altri forse andrò in America quindi ben venga a me piace il confronto non distruttivo ma costruttivo e soprattutto non mi piace l'integralismo perché l'integralismo non porta niente se sei integralista ti manca un pezzo e invece io credo che per migliorare devi avere più pezzi del puzzle possibile perché allora sì la figura sarà bella nitida se mancano dei pezzi non lo so e la prestazione è così più la fotografia è nitida e meglio posso immortalare quel momento quindi mi riferisco a un po' i seguaci del carico esterno del carico interno insomma queste cose per me ognuno ha dei limiti degli aspetti ha dei limiti bisogna saperli entrambi dobbiamo usarli entrambi e dobbiamo sapere cosa ricavare da entrambi questo però è la mia idea personalissima quindi era per già per contestualizzare un po' è un'ottima filosofia se vuoi è un ottimo spunto di riflessione perché ci sta ascoltando perché evidentemente è una visione che ti migliora costantemente che è quello che devi fare soprattutto in un ambito dove nulla è per sempre altrimenti non faremo ricerca no no certo quello che era vero vent'anni fa oggi sto disintegrato e sto avanti con altre sì sì assolutamente anche se mi permette di fare non un appunto però di dire che in ambito scientifico in ambito di ricerca secondo me si bada troppe volte alla pubblicazione ma non alla qualità della pubblicazione e quando mi riferisco alla qualità mi riferisco all'analisi statistica che è stata fatta all'approccio che è stato seguito per arrivare a quei risultati per non parlare di chi si inventa la ricerca quindi questo però è un aspetto fondamentale per poter poi dire io utilizzo il metodo scientifico sì benissimo anche a me piace utilizzare il metodo scientifico però delle volte mi capita di leggere degli articoli dove dico sì l'idea ci sta però poi da un punto di vista proprio metodologico ci sono dei bias degli errori grandi e quindi sicuramente è importante capire di cosa parliamo un ottimo appunto perché oggi grazie all'acceleratore di internet siamo in grado di venire in contatto con tantissime cose è fondamentale saper riconoscere ciò che è di valore e ciò che non lo è non vuol dire che se ha una eco importante lo sia certo bisogna saper discernere su ciò che effettivamente è possibile utilizzare o cosa non lo è ugualmente serve un atteggiamento come quello che tu proponi che non sia integralista ma che sia diciamo critico nel modo giusto ecco sono competenze necessarie io avrei mille altre domande da farti un po' di uso tecnico sei una persona estremamente disponibile per quanto riguarda la tua esperienza con la strumentazione in ambito calcistico tu hai hai fatto alcuni appunti alcuni accenni ecco in questo ambito qui come ti poni tu? allora io mi pongo pensando ripensando quando non avevo niente i miei primi anni diciamo i primi 5-6 anni di carriera non avevo niente non avevo un cardiofrequenzimetro non avevo un GPS non avevo un accelerometro non avevo la possibilità di avere nessuno strumento se non cronometro cervello e di conseguenza è chiaramente l'abilità di confrontarsi interfacciarsi con delle persone che mi hanno insegnato molto come Franco Impellizzeri come Ermano Rampinini altri personaggi altri professori con i quali mi sono sempre confrontato ma parlo di loro perché calcisticamente ho vissuto da prima il mondo calcistico come diciamo così tecnico di laboratorio perché di questo si parla poi in realtà quando lavori in MAPEI vai a fare i test di valutazione quindi in realtà vai sul campo e cerchi di trasferire le competenze scientifiche nel mondo pratico e una diciamo così un approccio che io ho sempre utilizzato è legato alla misurazione della percezione dello sforzo che molti criticano molti snobbano ma non conoscono non conoscono le basi scientifiche di questo metodo è un metodo che è nato per esempio negli anni 60 da Borg chiaramente ma è nato in clinica ha delle forti basi psicofisiche se vogliamo è più ripetibile di alcuni dati oggettivi quindi che possono essere qualsiasi variabili di cui vogliamo parlare in alcuni aspetti mi rendo conto che se vogliamo magari la percezione dello sforzo o RPE possa avere dei limiti sicuramente ma se non hai niente ti permette in ogni caso di creare per ogni atleta e per la squadra un profilo giornaliero settimanale mensile annuale della stagione relativo all'andamento del carico e questo sicuramente è uno strumento di cui è necessario parlare ed è necessario prendere in considerazione quando non hai la possibilità di misurare altri aspetti come per esempio il carico esterno te la faccio breve io credo che sia fondamentale poter misurare il più possibile quindi se per esempio a livello al quale lavoro io ora ho la possibilità di avere percezione dello sforzo frequenza cardiaca misure di carico esterno quindi utilizzando i gps utilizzando gli accelerometri utilizzando le piattaforme di forza quando voglio fare dei lavori di forza benissimo benissimo utilizziamoli però è importante non prescindere dal fatto che poi quei dati debbano essere analizzati estrapolati o meglio estrapolati e analizzati nella maniera corretta e senza dimenticarci che alla fine quello che determina gli adattamenti fisiologici sono le variabili interne chiaramente dettate da uno stimolo esterno ma sempre quello è quindi questo è quello che io credo potremmo stare a parlare ma probabilmente avremo bisogno di un mese e mezzo non ma io sono aperto e se mi vuoi fare qualche domanda ancora più specifica non ho problemi quindi come ho detto prima sono tanti gli aspetti che potremmo andare a declinare sulla parte prettamente più fisica io credo che adesso tu abbia dato un diciamo un approccio che tu hai al mondo della preparazione fisica e della ricerca anche che è estremamente oggettivo e come strumento da poter integrare in quello che fai ok e non dal quale prescindere ugualmente che io penso che i numeri debbano essere interpretati in modo giusto perché poi hai usato un termine prima appunto la parte psicofisica si proprio parlando con Armando Caligaris in questo periodo di preparazione fisica oggi è molto limitata come cosa quindi se quei numeri possiamo tirarli fuori relativamente a delle misurazioni fisiche la componente psichica è molto più difficile da analizzare e tu invece hai detto che lavori moltissimo cosa è anche quella sì assolutamente è un aspetto di cui prima non ho parlato è legato anche ad altri questionari psicobiologici perché in realtà tutto quello che è relativo a una misura percettiva è legato senza ombra di dubbio anche a dei parametri biologici quindi che ne so mi viene da dire che la prima scala di Borg che era stata validata è la 15 point scale quindi da 6 a 20 e Borg l'aveva pensata e immaginata all'inizio come similitudine tra la frequenza cardiaca 60 e 200 ok quindi 6 nessuno sforzo e 20 massimo sforzo percepito quindi questo per darti un'idea la prima che mi viene in mente per quanto riguarda la correlazione che c'è tra variabili psicobiologiche e parametri poi fisiologici ma nel contempo altri aspetti che poi tradotto cosa vuol dire tradotto vuol dire che io posso individualizzare l'allenamento non solamente utilizzando dei dati oggettivi ma ci sono delle scale anche per quanto riguarda il recupero generale come la scala TQR che è l'acronimo di Total Quality Recovery o la scala VAS che è Visual Analog Scale relativa al dolore muscolare oppure sono usciti dei nuovi papers che si riferiscono a come nell'analisi del carico sia importante per quanto riguarda la riduzione della probabilità di infortunio tenere in considerazione la quantità e la qualità del sonno perché si è visto come alla diminuzione della quantità e la qualità del sonno aumenti la probabilità di infortunio e per esempio stupidamente per darti appunto un esempio reale quando ho iniziato io a utilizzare queste scale che di solito utilizzo prima dell'allenamento per decidere insieme allo staff medico benissimo il giocatore non ha nessun fastidio però ha dormito poco ha recuperato poco come cosa facciamo lo facciamo allenare interamente gli facciamo fare una parte della seduta chiaramente poi in questo processo l'allenatore è quello che ha non dico l'ultima parola ma ha un peso importante perché è chiaro che l'allenatore è il manager ma senza questi dati per me è difficile poter dire si ti alleno o no non ti alleno per l'amor del cielo poi ci può essere lo stesso aspetto non raccogliendo il mero dato numerico la mera informazione numerica ma avendo un ottimo rapporto allenatore atleta ma non si può prescindere da questo aspetto psicologico è impossibile per me è impossibile io non ho non posso pensare di poter allenare domani mattina mi alzo e vado a allenare una qualsiasi persona e non ho queste informazioni per quanto riguarda l'aspetto della nutrizione perché tu hai parlato del sonno adesso che se vuoi per molti non è così rilevante purtroppo invece lo è moltissimo la nutrizione ugualmente che riguarda poi il network e la relazione con un altro professionista che sarà il medico il nutrizionista eccetera e che è un aspetto ugualmente fondamentale nella preparazione di un atleta come la gestisci questa in team per le esperienze per le esperienze che ho avuto io quando si lavorava a più basso livello o meglio con una possibilità pari a zero di avere più persone si cerca di fare quel che si può quindi sei un po' preparatore dei sani preparatore degli infortunati nutrizionista psicologo insomma ed è chiaro che la nutrizione è un aspetto fondamentale che non deve essere curato il giorno solo della gara ma deve essere curato in toto quindi di base mi piaceva perché ora è una cosa che non faccio più nonostante mi interessi l'aspetto nutrizionale dare delle linee guida anche perché noi come figura non possiamo chiaramente dare delle delle diete o quant'altro a meno che non si è cambiato il piano di studi in questo momento ma non mi pare delle linee guida per dire è importante il giorno prima della gara alimentarsi in questo modo o quantomeno come macronutrienti e micronutrienti ci debbano essere queste cose e anche a seconda dell'importanza dell'allenamento giornaliero dare delle indicazioni pre e post allenamento per quanto riguarda il recupero delle proteine carboidrati vitamine e quant'altro non sono un grosso fan di sostanze chimiche non inteso come doping ma come integrazione perché credo che se possiamo trovare in natura quello che ci serve sia meglio rispetto a scomporre una sostanza chimica insomma ci siano più più vantaggi nel reperirlo naturalmente rispetto a ingerirlo tramite una una pillola insomma e poi se non ricordo male come concetti di biochimica il tempo per l'assunzione è maggiore quando devo scomporre una sostanza chimica rispetto a quello che trovo in natura un altro aspetto molto interessante e quindi anche quello ovviamente di saper collaborare con un team di professionisti quando puoi scali lavori sì chiaro che ora il nutrizionista fa questo lavoro ecco Andrea hai detto un sacco di cose molto interessanti e si vince la tua preparazione soprattutto la tua volontà nell'essere un grande professionista e che fa piacere vedere che poi meritocraticamente ti porti a ottenere questo tipo di risultati e per questo è un grande piacere averti avuto qua al Talk sono sicuro che chi ti ha ascoltato può aver tratto grandi benefici in termini sia tecnici di capire come si fanno determinate cose e sia motivazionali nel fare nel modo giusto come ti poni adesso di fronte a quello che ti aspetta nel futuro i prossimi obiettivi mi pongo con grande motivazione come sempre non vedo l'ora che arrivi la prossima sfida soprattutto mi pongo dimenticandomi quello che ho fatto perché quello che hai fatto oggi domani non conta più anche questo sembra retorica ma in realtà nuda e cruda non mi non mi piace pensare è giusto ricordare quello che hai fatto ma non puoi vivere ricordando quello che hai fatto ci penso quando magari vado in vacanza o quando mi capita una foto davanti agli occhi ma altrimenti bisogna essere assolutamente focalizzati sul prossimo obiettivo cercando di se è possibile di ripetere quello che hai fatto e se invece non è possibile lavorare ogni giorno con lo spirito giusto che è quello che mi ha guidato da sempre sperando di fare bene insomma questo sicuramente ecco io ti faccio le congratulazioni te lo meriti grazie sei veramente un grande professionista e grande persona grazie mille spero ci siano atti momenti per ascoltarti e per condividere ok grazie mille ciao grazie per l'invito grazie grazie grazie